Senta, ma è vero che due giorni fa avrebbe detto a Radio Capital che i sovranisti sono dei malati di mente? No, ecco, questa è una delle cose che mi ha veramente rattristato in questi giorni, oltre che sconcertato. Io di mestiere faccio lo psicanalista, dunque sono molto attento alle parole. E queste parole, nella intervista con Massimo Giannini, io non le ho mai pronunciate. Sono state fatte rimbalzare da dei giornalisti, la rete se ne è impossessata, ho subito di tutto, insulti più infamanti, minacce. Ma è la prima volta che succede? No, a partire da una manipolazione, cioè quelle virgolette mi attribuiscono delle parole a me totalmente strane, nel modo, nella forma, nei contenuti. Io stavo facendo un ragionamento un po' più complicato di come, diciamo, i giornalisti hanno riportato. E cioè stavo dicendo che, in fondo, il nostro tempo ci fa vedere che esiste un desiderio fascista in ciascuno di noi. Noi siamo nel tempo dove si erigono muri, frontiere, dove si inspessiscono i confini, dove, diciamo, difendiamo la nostra identità. E facevo notare che questo non è l'indice di una malattia, ma è l'indice di una pulsione primaria dell'umano. Difendere i propri confini, barricarsi. E perché poco questo tempo, secondo lei? Beh, perché questo tempo, diciamo, segue la grande sbornia e la grande euforia della globalizzazione. E dunque la crisi economica, dunque il terrorismo, dunque i fenomeni migratori. E dunque nell'uomo c'è sempre una tendenza, Umberto Eco la chiamava, il desiderio di eterno fascismo, che significa alzare i confini, alzare le difese, barricarsi. Io stavo dicendo questo. E il sovranismo lo collegavo a questo fenomeno. In più aggiungevo che dal punto di vista clinico noi stiamo vedendo emergere nuove patologie, nuove malattie. Per esempio nei giovani, negli adolescenti. Noi abbiamo conosciuto un tempo in cui, diciamo, in primo piano c'era una pulsione a cefala, senza limiti, che portava i nostri giovani bulimicamente a divorare sensazioni, a divorare oggetti. Adesso assistiamo a una trasformazione della patologia prevalente e vediamo che i giovani, anziché rincorrere bulimicamente oggetti, esperienze, sensazioni, si chiudono nelle loro case. Abbiamo il fenomeno del ritiro sociale, quello che i giapponesi chiamano gli ikikomori. Abbiamo il fenomeno della fobia sociale. Abbiamo dei fenomeni di introversione, di chiusura, di regressione, della vita che ha paura della vita, della vita che ha paura della contaminazione della vita. E la sintesi giornalistica quale è stata? È stata che i sovranisti sono dei malati mentali. Capisce che questo è insopportabile. Quindi, diciamo, ho già incaricato i miei legali di fare giustizia. Oh, caspita, l'ha presa... insomma, l'ha presa sul serio. Sì, per me le parole sono importanti.